La Meloni ha accusato Adriana Polibortone di aver tradito se stessa, decidendo di candidarsi, su richiesta di Silvio Berlusconi contro lo stesso Francesco Schittulli, portabandiera del gruppo politico di Raffaele Fitto, del nuovo centrodestra e del partito di Meloni. Con la sua scelta, la Polibortone avrebbe ribadito la persistenza del patto del Nazareno, cioè di un accordo tra il premier Renzi e il presidente di Forza Italia. Una candidatura che fa parte del patto del Nazareno, cioè che serve a far vincere la sinistra, non può essere una candidatura di destra. Noi avevamo scelto tutti insieme, Adriana ha convinto tutto il partito a seguirlo, Francesco Schittulli, banalmente perché tutti sapevamo che Francesco Schittulli era il candidato più competitivo per battere Michele Emiliano. E vede chi è di destra, la prima cosa che vuole fare è battere la sinistra. Poi ha cambiato idea per ragioni che francamente io non comprendo, ha seguito le sirene di un Silvio Berlusconi intento a risolvere beche interne al suo partito, ma delle beche di partito ai cittadini non frega niente. Noi vogliamo vincere, vogliamo battere la sinistra e per noi Francesco Schittulli rimane l'avversario più competitivo. E le dirò di più, un certo favore che Michele Emiliano riserva a Adriana Polibortone dimostra che Adriana Polibortone rischia di fare gli interessi alla sinistra. Giorgia Meloni ha ribadito la sospensione di Adriana Polibortone da Fratelli d'Italia e il suo deferimento al Collegio dei Probiviri, ma non si è fatta attendere la reazione della candidata alla presidenza della regione, che ha affidato a Facebook un laconico commento teso a rimarcare le contraddizioni della strategia di Giorgia Meloni, in particolare l'alleanza con NCD. In Parlamento, ha scritto la Polibortone, chiedono le dimissioni di Alfano come ministro di centro-sinistra. In Puglia scelgono di andarci a Braccetto, questa sì che si chiama coerenza, come dire meloni e alla frutta.